Sì, il Movimento 5 Stelle su questa mozione del consigliere Fassina si asterrà per la seguente motivazione. Noi il dialogo con le AGS l'abbiamo iniziato a inizio anno con l'ex Assessore Meloni e appena arrivato l'Assessore Caffarotti ha preso questa come una delle priorità principali da seguire. Si è iniziato con un nuovo schema di convenzione perché il precedente non andava bene, era stato mal compreso e conteneva alcuni elementi particolari che non chiarivano bene diritti e doveri delle associazioni di gestione dei servizi nei mercati. Quindi era qualcosa di importante da portare avanti nell'interesse di tutti, dei cittadini e degli operatori stessi che lavorano nei mercati e hanno le competenze per poter fare quei servizi che vengono richiesti nella convenzione, cioè pulizia, guardiania, vigilanza. La cosa importante è che l'ultimo incontro c'è stato venerdì scorso, c'ero io, c'era l'Assessore Caffarotti con tutte le associazioni di categoria, ci sono stati altri incontri con i presidenti delle AGS. Secondo noi si è raggiunto un buon accordo e quindi la data del 15 febbraio non è un traguardo difficile da realizzare. Secondo noi sono state superate con l'accoglimento di alcune delle osservazioni corrette da parte dell'AGS tutte le ultime remore alla firma del contratto. Basti però far pensare che uno dei punti ribaditi dalle AGS era il fatto che loro non volessero farsi carico della manutenzione ordinaria, quando già le precedenti convenzioni prevedevano che loro facessero la manutenzione ordinaria. Quindi non vi è una chiara comprensione dei soggetti che firmano questi atti o meglio di quello che significa manutenzione ordinaria. Va da sé che quello che può garantire l'AGS sono le opere garantite dai fondi che vengono loro affidate dal Roma Capitale. Quindi nessuno chiede alle AGS di intervenire per quanto non possono e le risorse che affida l'amministrazione permetta loro. Siamo convinti che si è fatto un percorso forse anche troppo lungo ma che alla fine si sia compresa la buona volontà dell'amministrazione e che siamo pronti per proseguire il rapporto di collaborazione tra operatori e amministrazione che è essenziale per il rilancio dei mercati. Per questo motivo ci asterremo. Grazie